Meglio di così per noi difficilmente si sarebbe potuto verificare. Abbiamo cambiato la geografia politica dell'Abrianza, adesso a partire da Monza, dal capoluogo e poi con le significative vittorie in tutti gli altri comuni, pressoché tranne sul Biate, abbiamo ormai amministrazioni centrosinistra in gran parte dei comuni di Monza e Brianza. Questo per noi è soprattutto positivo perché ci può consentire di mettere in rete molte buone pratiche che si sono andate consolidando nei comuni da noi amministrati. Una delle caratteristiche principali che abbiamo visto in questi anni è la capacità nei comuni di centrosinistra di collaborare fra loro e di capire che la gran parte dei problemi non si risolvono chiusi negli stretti confini del singolo comune, ma in una dimensione territoriale più ampia e quindi speriamo che questo bel risultato sia utile soprattutto in questa prospettiva. Grazie a tutti.